Musica Buonasera e ben ritrovati appuntamento con l'informazione di Udinese TV in questo nostro ultimo telegiornale di giornata. Il CDM approva la manovra, misure per circa 30 miliardi, quota 102 solo nel 2022. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo della legge di bilancio dal Fondo per il taglio delle tasse ai nuovi ammortizzatori. Sono 185 gli articoli contenuti nella bozza della manovra sul tavolo del CDM. Tra le misure, oltre all'intervento sulle pensioni e il reddito, il rinvio della Sugar e Plastic Tax, i congedi per i papà, rinnovo dei bonus edilizi, fondi per la sanità e anche per il giubileo 2025. Allora andiamo a vedere insieme alcune di queste misure. Quota 102 nel 2022 con 64 anni e 38 di contributi. Si conferma così il passaggio da quota 100 a quota 102 per le pensioni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente. Il contratto di espansione che consente lo scivolo pensionistico fino a 5 anni, favorendo il turnover, viene esteso agli anni 2022-2023 e per questi due anni il limite minimo dei dipendenti delle imprese scende a 50, soglia per potervi accedere. Estesi poi gli ammortizzatori aliquote da 0,5% a 0,8. Questo rifinanziamento del reddito di cittadinanza stretta sui controlli e sui reati che impediscono di accedere alla misura dei nuovi meccanismi per favorire la ricerca del lavoro e dei beneficiari. Si decade dal reddito di cittadinanza con due rifiuti a un lavoro e dopo i primi sei mesi del reddito di cittadinanza questo subirà un taglio di 5 euro al mese. La bozza della manovra precisa però che la misura si applica solo agli occupabili, cioè ai soggetti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio. In arrivo con la manovra nuove risorse per la parità di genere e quella salariale, 8 miliardi all'anno dal 2022 per il taglio dell'IRPEF e dell'IRAP, la proroga del super bonus al 110% per il 2023, 2 miliardi per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022. Ancora un fondo ad hoc con 150 milioni l'anno a partire dal 2022 per supportare la transizione industriale. La manovra istituisce poi anche un apposito fondo per il clima, confermata la proroga dell'eco bonus e del sisma bonus fino al 2024, così pure delle bonus mobili e elettrodomestici che cala però di due terzi per quanto riguarda il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50%. Proroga anche delle agevolazioni all'acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni e per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Sconto affitto per i giovani under 31, un congedo di paternità di 10 giorni dal 2022, 200 milioni stanziati per implementare il piano pandemico, un incremento di 300 milioni per il fondo per le misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico. 90 milioni in più l'anno per il triennio, per il fondo ricerca e un miliardo per la cultura. E queste sono alcune tra le principali misure della manovra. Sentiamo allora un passaggio del premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del CDM dove ha spiegato lo spirito della legge con particolare riferimento al tema delle pensioni. Dal problema delle pensioni come dal problema dell'alto debito pubblico si esce solo crescendo molto. Quindi è necessario che tutte le azioni di politica economica del governo siano dirette a quel fine. Crescita che sia equa e sostenibile ma crescita. Questo è un po' lo spirito di questa legge oggi e spero lo sia lo spirito delle altre leggi in futuro. Anche le varie leggi sulle semplificazioni che noi abbiamo fatto in passato e continueremo a fare nelle settimane future mirano a quell'obiettivo. Secondo, il tasso di occupazione è basso e io ho detto prima che alcune delle misure che dovremmo introdurre saranno proprio per stimolare, per fare entrare nel mercato del lavoro, non solo i giovani a cui penserà il Ministro Orlando con le politiche attive, ma anche i vecchi, anche quelli che sono andati in pensione, che vorrebbero lavorare. Ce ne sono tantissimi e per loro bisogna fare in modo che possano lavorare e guadagnare senza essere puniti. Questa è la situazione attuale e questa situazione va accabbiata. È chiaro che il contributivo richiede tassi di partecipazione che sono molto elevati, comunque bisogna, ripeto, che i conti tornino. Grazie. E su quota 102 non si trovano però d'accordo i sindacati pronti a scendere in piazza, ha dichiarato il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Sabato, aggiunto, ci vedremo con i colleghi di CGL e Cisle e valuteremo quali strumenti di mobilitazione mettere insieme, sapendo che, siccome è una discussione che durerà all'interno delle Camere un mese, dovremmo avere la forza di fare pressione. Mobilitazioni per un mese e un giorno in più di quanto dura la discussione per convincere il Parlamento a cambiare le scelte che ha assunto. Non mi aspetto uno sciopero generale, mi sembrerebbe strano, ha detto il Premier al termine del CDM. C'è la disponibilità del Governo a ragionare, ha sottolineato come comunque la decisione stia ai sindacati. E veniamo ora ai dati relativi al contagio di oggi. A livello nazionale sono 4.866 i nuovi positivi al test Covid, appunto, che sono stati individuati e resi noti dal Ministero della Salute. Sono 50 invece le vittime in un giorno e per la prima volta da due mesi tornano a salire sensibilmente gli attualmente positivi, che raggiungono un totale di 76.778 persone. Il tasso di positività è allo 0,85%. 347 sono poi i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero, sono 32 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Sono 2.609, mentre ieri erano 2.615, quindi 6 in meno. Come sempre diamo un rapido sguardo anche all'andamento delle vaccinazioni in Italia. Ci avviciniamo a quota 90 milioni di dosi somministrate, precisamente 89.432.820. Le persone vaccinate con due dosi sono 44.622.437, mentre ad essersi già sottoposte alla terza dose sono 1.129.406 persone. Il Friuli Venezia Giulia conta 1.752.796, 92, scusate, dosi somministrate a fronte dei 2.031.249 dosi consegnate. Quindi il rapporto è dell'86,3%. E torna a correre purtroppo l'epidemia anche in regione, traenata dai casi del focolaio, tra i Green Pass Triestini. Per fortuna i dati sull'ospedalizzazione non destano preoccupazione. Un aumento si registra anche in Italia, mentre invece calano le prime dosi di vaccino. Vediamo il servizio. Il focolaio triestino è più consistente di quanto si pensasse. Al momento è il maggiore in regione. A testimoniarlo è il professor Fabio Barbone, l'epidemiologo che guida la task force anti-covid in regione. Altri casi positivi, oltre al nucleo principale, sono stati riscontrati anche a Udine e Pordenone e si attendono a brevi aggiornamenti sull'esatta dimensione del fenomeno. Di sicuro c'è che sono tutte non vaccinate le 46 persone che hanno contratto il covid tra Trieste e Gorizia dopo aver partecipato alle manifestazioni no Green Pass dei giorni scorsi. Sono manifestanti che per giorni sono scesi in piazza senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito a gomito, spiega il professore. Ha contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a giugno e luglio. Se c'era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. Tra le persone infette, una soltanto risulta ricoverata in ospedale, mentre ci sono 8 lavoratori portuali, 7 a Trieste, 1 a Monfalcone e una decina di casi secondari. Ma lo stesso esperto ha paventato l'ipotesi che questi dati possano essere solo la punta dell'iceberg. La ripresa della circolazione del covid in Friuli, Venezia e Giulia è fotografata anche dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe. Nel periodo 20-26 ottobre, infatti, nella nostra regione si registra un aumento del 68% dei casi che porta l'incidenza, ovvero i contagi ogni 100.000 abitanti, a quota 113. A trainare il dato è, come già detto, l'ex provincia di Trieste che registra oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Numeri confermati anche dalla bozza del report della cabina di regia che per la nostra regione calcola un indice RT abbondantemente sopra l'1, ovvero 1,7 e un'incidenza tra le più alte d'Italia, seconda solo a quella di Bolzano. Ancora pochi i vaccini con il 73,1% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale a fronte di una media italiana del 75,1 e anche in Italia si rileva un netto aumento dei nuovi casi settimanali passati da 17.870 a 25.585, pari al più 43,2%, anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all'incremento dei tamponi totali fatti anche per il Green Pass. Ma a indicare una maggior circolazione del virus sono anche i ricoveri aumentati del 7,5% rispetto alla settimana precedente e il tasso di positività dei tamponi molecolari. Calano ancora le prime dosi in Italia nonostante l'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pensata proprio per incentivarle. In 7 giorni si contano infatti meno 53% nuovi vaccinati mentre 11 milioni di dosi rimangono stipate in frigo. E secondo l'ultimo aggiornamento ricevuto dal Vice Governatore con Delega alla Salute Riccardo Riccardi sono 70 i casi che si sono registrati tra i manifestanti non Green Pass di Trieste che portano Trieste ad avere il focolaio più importante al momento in regione. Ma entriamo proprio nel dettaglio e ricapitoliamo i dati regionali che quest'oggi appunto riportano 249 nuovi casi rilevati a fronte dell'alto numero dei tamponi eseguiti più di 28 mila. Si registrano due decessi una donna di 90 anni e un uomo di 96 entrambi di Trieste deceduti nel proprio domicilio ai quali si aggiunge un decesso pregresso una donna di 83 anni straniera deceduta in ospedale a Palmanova. Sono 10 invece le persone ricoverate in terapia intensiva mentre 59 sono i pazienti ospedalizzati in altri reparti. E distanziamento ed areazione si confermano delle raccomandazioni efficaci per combattere la diffusione del virus e quanto emerso da uno studio scientifico multidisciplinare portato avanti dall'Università di Trieste e Asugi nel laboratorio di biosicurezza dell'ospedale di Monfalcone. Ce ne parla il ricercatore Pierluigi Barbieri. Noi siamo focalizzati sul studiare il comportamento delle particelle più fini, quelle che persistono per un po' più di tempo nell'aria e che possono eventualmente portare infezione. A partire da campioni tratti sostanzialmente da pazienti si è aerosolizzato il virus, fatto passare in condizioni di assoluta sicurezza attraverso un tubo e abbiamo raccolto sostanzialmente l'aerosol, quello che vedete, il biosampler lì indicato, un campionatore e il liquido che è stato raccolto è stato messo in contatto con delle cellule e si è visto che quanto raccolto è infettivo. Questo ci dice che anche particelle molto fini vanno a poter infettare, però perché ci sia questa infezione serve che ce ne siano davvero molte. I risultati di questo studio, professore, ci devono preoccupare o ci devono rassicurare, secondo lei? Dobbiamo capire sempre meglio quali sono le condizioni di sicurezza. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma il distanziamento è davvero un elemento importante. Ricambio d'aria, diluizione, stiamo vedendo sperimentalmente, non soltanto sulla base di generiche raccomandazioni di buonsenso, ma anche iniziamo a poter studiare quali sono le condizioni limite e critiche. Quindi il nostro gruppo di lavoro è uno dei pochi che porta avanti studi sperimentali testando in condizioni controllate il comportamento in aria del nostro virus. In questo momento nel laboratorio vengono effettuati anche altri test. Esattamente cosa riguardano? Avere la possibilità di nemulizzare il virus e raccoglierlo in maniera che sia ancora viva ci permette di verificare se sistemi di filtrazione o di trattamento dell'aria riescono veramente ad abbattere tutta la carica virale e l'infettività. Abbiamo dei rapporti con eccellenti colleghi, i dipartimenti di ingegneria hanno sviluppato dei metodi per abbattere in generale microorganismi. Siamo in procinto sostanzialmente di testare, abbiamo iniziato a testare su altri microorganismi per verificare appunto che non ci siano perdite nel sistema e di andare a infettare il laboratorio. Abbiamo incominciato a testare appunto questi sistemi che bloccano e irraggiano il virus in maniera molto efficace senza creare eccessive anche resistenze ai flussi d'aria perché ad esempio nelle mascherine dobbiamo respirare, non bisogna bloccare il virus ma anche morire diciamo per asfessia. La stessa cosa nei flussi d'aria ci deve essere un'efficace disinfezione ma mantenendo dei flussi che consentono sostanzialmente il funzionamento dei sistemi ad esempio di condizionamento. E nonostante l'aumento dei contagi con il focolaio triestino i manifestanti del capoluogo non si fermano. Nuovo corteo che ha sfilato tra le vie della città quest'oggi una nuova protesta promossa dal coordinamento No Green Pass di Trieste è partito alle 17 da Piazza San Giacomo in 1500 persone che è arrivato in serata a quota 8000 aderenti. Il corteo al quale hanno partecipato anche Stefano Puzzer del neomovimento La Gente Come Noi, FVG assieme ad alcuni portuali e Ugo Rossi, leader del movimento Novax 3V è passato anche nei pressi del barco 4 del porto dove si è concentrata la protesta nei giorni scorsi senza però creare disagi. Oggi si è riunito il Consiglio dei Ministri e la piazza attende una risposta alla richiesta di ritiro dell'obbligo del Green Pass formulata dal Ministro Patuanelli sabato scorso. Ed è prevista invece domani una manifestazione organizzata dal Comitato Spontaneo Costituzione in Azione a Udine. Il corteo partirà alle ore 18 dal parco Ilaria Alpi di via Melegnano e arriverà in piazza Libertà. Per permettere lo svolgimento del corteo fino alle ore 22 sarà modificata la circolazione stradale del centro cittadino nello specifico fino al termine dell'evento sarà istituito il progressivo divieto di transito nelle seguenti vie e piazze via Melegnano, viale Palmanova, cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato, piazzale D'Annunzio, via Quileia, via Vittorio Veneto e piazza Libertà. Dalle 17 alle 19 inoltre in largo degli internati sarà in vigore il divieto di sosta. E passiamo ora alla cronaca con tutte le notizie, le principali notizie di giornata raccontate nelle nostre Flash News, questa sera a cura di Valentina Bearzi. Madre e figlio, 46 anni lei, 19 lui, sono stati arrestati dai carabinieri di Martignacco che li hanno sorpresi in auto martedì mentre trasportavano un chilo di marijuana. I due viaggiavano a bordo di una Citroën C3 quando sono stati fermati per un controllo. I carabinieri hanno subito avvertito un chiaro odore di marijuana. Approfondito il controllo hanno ritrovato lo stupefacente avvolto in un sacchetto di cellofan. Nel corso della perquisizione a casa dei due i carabinieri hanno ritrovato altri 200 grammi di cannabis, due bilancini di precisione e oltre 900 euro. 18 indagati, 723 persone controllate in 14 scali interessati con 54 agenti della Polfer impegnati nei controlli straordinari insieme anche alle unità cinofile. Sono i numeri principali della decima operazione annuale di stazioni sicure nella nostra regione. Nello specifico a Udine è stato fermato un folto gruppo di stranieri provenienti dal flusso migratorio balcanico. Si tratta di 17 pakistani e un indiano che sono stati indagati. Nella tarda serata di ieri la Corte di Appello di Trieste ha scagionato un ex comandante di stazione dei carabinieri dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse. In primo grado il maresciallo, all'epoca dei fatti operativo in provincia di Pordenone, era stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per una lunga serie di vessazioni e pestaggi denunciati dalle ex moglie. Per lui era iniziato anche un calvario lavorativo venendo degradato e trasferito di sede. Nel 2018 la prima condanna, ieri invece la soluzione perché il fatto non sussiste e per un episodio specifico non costituisce reato. Controlli da parte della Polizia della Cardia nei confronti dei mezzi pesanti in transito, in particolare per contrastare abusivismo e mancanza di certificazioni. Sette i veicoli per cui sono state riscontrate delle violazioni amministrative di questi cinque comunitari. La maggior parte per un errato utilizzo del cronotachigrafo. Sanzionato per 5.000 euro anche un autista rumeno a bordo di un mezzo sloveno perché viaggiava senza documenti che dimostrassero l'ingresso legale in Italia. È stato recuperato dall'elisocorso regionale il parapendista tedesco caduto poco dopo il decollo dal Monte Valinis questo pomeriggio. L'uomo a 59 anni ha riportato una probabile frattura ad un arto in seguito all'impatto con un terreno molto impervio. Sul posto ad aiutare l'elisocorso anche il soccorso alpino della stazione di Maniago e i vigili del fuoco è stato portato all'ospedale di Pordenone. Ed ora il DDL ZAN, le cui modalità di affossamento da parte del Senato rappresentano una brutta pagina nel contrasto alle discriminazioni e non solo. Ne abbiamo parlato con Luca Vida, neopresidente di Arcighei Friuli, il sodalizio ha in cantiere per i prossimi giorni delle azioni di protesta. Con noi Luca Vida, presidente di Arcighei Friuli. Vi aspettavate che le cose sarebbero andate in questo modo? Sapevamo che l'iter per approvare il DDL ZAN sarebbe stato difficile. Di sicuro non ci si aspettava che venisse affossata in un modo così vile, con il voto segreto. Riteniamo che chi ci rappresenta politicamente al Senato debba rendere conto al popolo italiano di come agisce. Quindi, sì, affossare una legge con il voto segreto è abbastanza squallido, vergognoso. Una brutta pagina quella che si è vista in Senato. I nostri senatori e senatrici sono onorevoli, ma quello che abbiamo visto ieri è solo vergogna. Vergogna perché hanno riso in faccia a persone che vengono discriminate. E non si tratta solo della nostra comunità, quella LGBTQIA+, ma anche delle persone con disabilità. Questo DDL parlava anche di violenza contro le donne, di misoginia. Quindi hanno riso in faccia contro gruppi di persone che vengono marginalizzati e che subiscono violenze di tipo verbale e fisico. Hanno riso in faccia davanti a persone e davanti ai loro diritti. E questo è inconcepibile per chi dovrebbe rappresentarci. Cosa avete intenzione di fare a questo punto per far sentire la vostra voce? Hanno affossato il DDL, ma non riusciranno a tappare le nostre voci. Ci stiamo muovendo per scendere in piazza, perché è giusto che sappiano come ci sentiamo. Oggi ci sarà stasera una riunione delle principali associazioni a livello nazionale e stiamo aspettando solo questo per capire se ci sarà una data comune in tutta l'Italia o se dovremmo scendere in piazza a livello regionale. Pensiamo che sia importante unire le forze. Parliamo ora di popolazione straniera che nel complesso è in calo in Friuli, Venezia e Giulia, ma sono in aumento le presenze dei bambini stranieri nelle scuole. Inoltre la nostra regione detiene il record 2020 di cittadinanza. Abbiamo fatto il punto con Paolo Attanasio, referente del Centro Studi e Ricerche IDOS. Dossier migrazione, cosa emerge? Emerge chiaramente che siamo nell'anno del post-pandemia, siamo ancora nella pandemia, ma diciamo che forse ne stiamo uscendo e effettivamente c'è un calo della popolazione generale, ma c'è anche un calo molto più forte, almeno di sei volte tanto, della popolazione straniera. Un fattore positivo, soltanto qui in Friuli, Venezia e Giulia, effettivamente non rispetto al dato italiano, è un grande aumento delle cittadinanze, delle acquisizioni di cittadinanze, che fanno sì che quest'anno, quest'anno, l'anno scorso, cioè il 2020, ce ne siano state oltre 3.600, con un aumento del 40%. Questo non è attribuibile in alcun modo al Covid, ovviamente, dato che purtroppo, come sappiamo, il procedimento di acquisizione di cittadinanza è estremamente lungo e quindi queste sono domande di cittadinanza che sono state presentate negli anni scorsi. Anche per quanto riguarda la scuola, in un certo senso si approfondisce quello che è il fossato fra italiani e stranieri, anche se dal punto di vista meramente numerico dobbiamo dire che la popolazione scolastica totale diminuisce, mentre invece aumenta la popolazione straniera e ovviamente, per un semplice gioco aritmetico, aumenta anche quella che è l'incidenza, l'incidenza dei bambini stranieri nelle scuole del Friuli Venezia Giulia che arriva al 12,4%. Questo però dobbiamo dire che in gran parte due su tre sono stranieri, fra virgolette, quelli che noi definiamo, diciamo senza tanti giri di parole nel dossier, quei figli di un autentico pezzo di antiquariato che è la legge di cittadinanza che l'anno prossimo compie soltanto 30 anni, nel 1992, ma è, come dire, è nata vecchia, è nata vecchia in partenza, in quanto era una legge che già nel 92 guardava all'indietro, cioè guardava verso quella diaspora di emigrazione italiana che si stava concludendo, anzi che si era già conclusa in quegli anni e non riusciva a vedere, almeno per chi non voleva vederlo, quello che era il futuro, che nel 92 era già chiarissimo, era che l'Italia sarebbe diventata un paese di immigrazione, non più un paese di emigrazione. Ed ora lo sport, si chiude questa sera la decima giornata di campionato in questo turno infrasettimanale che ha visto scendere in campo Napoli-Bologna, risultato di 3-0 e il Napoli riaggancia così il Milan in vetta alla classifica a quota 28 punti in campo. Questa sera anche il Pordenone in trasferta a Como, niente da fare per Tedino che era in cerca della prima vittoria, la partita finisce 1-0 per i padroni di casa e così il Pordenone resta a quota a due punti in classifica. E si allunga la striscia di partite senza vittoria per l'Udinese beffata dal Verona con un rigore nel finale dell'ex Barac. Buone indicazioni comunque per il mister, per Luca Gotti arrivate dall'atteggiamento e dall'ottimo esordio dal primo minuto di success. Ora si prepara la sfida ai campioni in carica dell'Inter sperando di recuperare De Lofeu mentre ancora out Pussetto. Serata amara per l'Udinese quella del secondo infrasettimanale della stagione non tanto per il risultato che resta comunque utile ma per come è maturato il pareggio contro l'Ellas Verona dell'ex Igor Tudor. Complice il turnover del Croato Luca Gotti è stato bravo a tenere a bada l'attacco atomico dei gialloblu capace prima di Udine di andare in gol 18 volte in 6 gare con lo spalatino in panchina. I bianconeri hanno sbloccato subito la partita con il primo gol in Serie A di success ma poi hanno avuto il demerito di non raddoppiare il vantaggio anche per via degli ottimi interventi di Montipò in particolare sulla capocciata di Beto che poteva valere il quarto gol consecutivo in campionato per il portoghese. E poi è bastata una disattenzione di Wallace a centrocampo per creare i presupposti per il rigore concesso da Becao e realizzato da uno degli ex di giornata Antonin Barak freddo a spiazzare Silvestri che in carriera non è ancora riuscito a intercettare un rigore. In conferenza Gotti non è voluto tornare sulla scelta dell'arbitro resa complessa dall'interpretazione del VAR ma ha evidenziato l'errore tecnico in uscita del centrocampista brasiliano oltre poi a puntare il dito su un'eccessiva facilità di assegnazione dei penalty in Serie A rispetto per esempio alla Premier League. Il risultato però poi è arrivato quarto pareggio di fila terzo per 1-1 e una striscia di partite senza vittorie che si è allungata a 7. L'Udinese è chiamata a voltare pagina subito perché all'orizzonte c'è l'Inter fresca della vittoria per 2-0 sul campo dell'Empoli anche qui tra molte polemiche arbitrali. La cattiva notizia per Gotti riguarda l'ormai certa assenza di bussetto anche per la trasferta di Milano mentre buone sensazioni arrivano da De Lofeo che dovrebbe quantomeno essere a disposizione per la partita nello stadio in cui è stato protagonista con la maglia del Milan. Intanto però la gara contro il Verona ha confermato la bontà dell'innesto di success che ha subito mostrato grande grinta e una buona intesa con Beto. In attesa di capire quale sarà la condizione fisica di Gerard De Lofeo contro l'ex Andanovic e Sochi potrebbe essere riproposto lo stesso attacco visto mercoledì alla Dacia Arena con una potenziale staffetta in vista proprio tra Success e lo stesso De Lofeo. E ora come sempre è giunto il momento di dare un'occhiata alle prime pagine ai titoli dei giornali domani in edicola a partire dal titolo del giornale De Bacle centrosinistra e il rancore di Letta al segretario dei Democratici non accetta il disastro sul DDL Zan e se la prende con Italia Viva e Forza Italia con loro ho chiuso ma intanto esplode il PD. Avanti con la prima pagina della verità la sovranità non appartiene al popolo bensì al burocrate e al virologo emergenza finita ma solo per il fisco termina martedì la moratoria per i pagamenti concessa in seguito alla pandemia che quindi quando si tratta di incassare lo Stato considera superata per i cittadini sudditi resta invece il Green Pass più duro del mondo e anzi si vuole prolungarlo oltre la scadenza. E invece il titolo di Libero scrive la manovra di Draghi un po' meno tasse sulla carta tagliate IRPEF e IRAP per 8 miliardi un paio di miliardi per le bollette e poco altro il Premier avverte i sindacati non scioperate e boccia il reddito grillino. E infine il Foglio che scrive un incubo prima di Natale contenera le stelle materie prime introbabili porti ingolfati non per il Green Pass e primi segni negativi d'America e Germania il boom post-pandemico un guaio la scarsità cosa manca nell'agenda Draghi ed è tutto anche per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi lascio all'accadde oggi di Guido Gomirato una buonanotte Il 28 ottobre 1952 nasce a Treviglio Roberto Corti che è stato portiere dell'Udinese in una stagione importante per i colori bianconeri 1982-83 l'Udinese in quella nata conquisterà il sesto posto uno dei risultati più importanti in 47 anni disputati nella massima categoria Corti ha iniziato a giocare nelle giovanili della Trevigliese e in prima squadra ha debuttato nel campionato di Serie D poi è passato al Sorrento ma il salto di qualità lo ha compiuto nella sua lunga parentesi al Cagliari da prima in Serie B tre anni poi in Serie A e nel 1982 lo ha voluto l'Udinese è stato l'allora direttore generale del club bianconero Franco Dalcin a concretizzare con la formula del prestito con diritto di riscatto l'estremo difensore Lombardo Corti in bianconero non ha deluso ma è stato sfortunato pensate alla quarta giornata 3 ottobre 1982 nella gara pareggiata contro il Torino 2 a 2 dopo mezz'ora subisce un infortunio abbastanza serio al ginocchio deve rimanere fuori ben sei gare sostituito da Borin poi rientra fa il suo dovere e nelle ultime tre gare quando l'Udinese nel frattempo aveva deciso di non riscattarlo ecco che l'allenatore della squadra bianconera che è Enzo Ferrari decide di dare fiducia al giovane Borin Corti è stato un portiere molto regolare difficilmente commetteva errori marchiani come persona era un introverso molto gentile molto educato poi dopo la sua avventura la sua breve avventura friulana ventungare è passato all'Ascoli sempre nella massima categoria Corti vanta anche una presenza durante la sua esperienza con il Cagliari con la nazionale bi-italiana e ha preso parte alla gara tra gli azzurri e la Germania Ovest con il Cagliari con il Cagliari